Nono posto per la ginnastica Riccione Academy nella seconda prova del campionato di A1. A Dancona le ragazze del presidente Poesio hanno commesso alcuni errori che hanno penalizzato un punteggio che sarebbe potuto essere più alto, ma le ginnaste della Perla Verde pagano anche lo scotto del noviziato. Di rilievo il 14.600 alle parallele di Zoya Zeccheli, che ha chiuso con un eccellente 50.800 all-around. Buona anche la parallela di Rebecca Aiello, 12.950, in evidenza anche al corpo libero, 12.600, per un punteggio all-around di 50.200. La capitana Adriana Poesio si è riscattata, ha portato il suo avvitamento al volteggio, ottenendo un buon 13.050. È stata protagonista di un buon corpo libero, 12.400, e ha ottenuto il primo punteggio alla trave anche se non eseguita in maniera perfetta. Arianna Auriglio ha portato per la prima volta un avvitamento al volteggio, si è ben comportata a corpo libero, una conferma, e alla trave migliorata. Presenti ad Ancona anche Aurora Pilolla e Sara Camba. La ginnastica Riccione Academy è ora settima in classifica. Il 7 aprile è in calendario la terza e ultima gara a Ravenna.